Un gesto simbolico ma dal significato profondo e che si ripete ogni anno. I poliziotti padovani in alta uniforme, il traffico bloccato dalla polizia municipale, questore e prefetto che depongono una corona di alloro al monumento dei caduti davanti alla questura, tra due ali di agenti e un picchetto armato e a seguire la benedizione del capellano militare. Un omaggio ai caduti in servizio che celebra in modo ancora più chiaro l'anniversario numero 170 dalla nascita della polizia di Stato. Una breve cerimonia che si svolge in pratica in strada, anche per simboleggiare il legame stretto tra cittadini e forze dell'ordine, chiamati sempre a rimanere in mezzo alla gente e per ricordare l'impegno degli uomini e il sacrificio di quegli agenti che hanno perso la vita durante lo svolgimento del loro lavoro al servizio della comunità. E poi nel corso della giornata gli altri eventi commemorativi del 170esimo anniversario che il questore Antonio Sbordone ha sottolineato come non sia opportuno chiamare festa, visto il momento difficile, ma che va comunque celebrata e vissuta con intensità da agenti e cittadini.